Sì, diciamo, la mia forza in questi anni è stata sempre che indipendentemente da come era andata l'anno prima cercavo di ripartire perché ogni anno si volta pagina, per cui quello che è stato l'anno scorso è stato ormai quest'anno è un anno nuovo, per cui le mie motivazioni sono altissime e mi concentro solo a far bene sul campo senza pensare a quello che ho fatto o a quello che non ho fatto ora sono qua, quello che conta è adesso, il presente e voglio fare benissimo qua Francesco Botta, Cesena Tudey, uno scorso Toscano disse che in Portano ci sono le gerarchie che è comprimato il Sartre in questa stagione? Non lo so, adesso io mi alleno al massimo, poi deciderà il mister cosa fare ovvio che io sono venuto per giocare ma decide il mister, tutti vogliono giocare penso per cui io mi preparo per giocare e poi aspetto la formazione Luca, l'Italia Romagna, ti chiedo, è arrivato anche un altro quartiere comunque di buona affidabilità tra l'altro ci sono quasi dei sani di differenza tra di voi la vedi più come una sfida, come una concorrenza o anche un ragazzo da aiutare a crescere visto che tu gli esperienze ne hai tante? Sicuramente è buono che ci sia un clima sereno io penso, l'importante è che si faccia bene di squadra io penso a fare bene il mio lavoro possiamo imparare entrambi io cerco di fare quello che ho sempre fatto al meglio Simone Donati, tutto Cesena, innanzitutto do benvenuto e faccio l'invocato a entrambi vieni qui che conosci già un bel blocco di giocatori questo ha facilitato l'ambientamento? sicuramente è stato un piacere ritrovare il direttore e altri compagni con cui abbiamo lavorato molto bene ci siamo tolti molte soddisfazioni ma poi ho trovato un gruppo veramente dedito al sacrificio che sa quello che vuole per cui è stato anche facile l'inserimento è un piacere anche poter giocare con questo gruppo vado a memoria ma potrei sbagliarmi non hai mai giocato una luce di sbagli no esatto mai che effetto ti faccio ancora entrare naturalmente quindi chiaramente uno stadio importante che pesa hai le spalle larghe e soprattutto hai più di 400 partite quindi da questo punto di vista c'è curiosità, c'è voglia, c'è ci racconti? sicuramente c'è molto entusiasmo so che avremo lo stadio sempre o comunque spesso speriamo il più possibile pieno so che qua a Cesena c'è un grande attaccamento alla maglia e alla squadra la squadra è proprio parte della città non vedo l'ora di poter giocare allo stadio come dicevi tu ancora non ho mai giocato sia perché il Cesena stava in A o in B sia per gironi diversi prima non sono mai entrato dentro lo stadio sarà un piacere domenica Luca Ravaglio e Ternino buongiorno qui è la stessa cosa che vorrei dire almeno a tuo collega è arrivato tutti i due in una squadra già forte che l'anno scorso non ha vinto per un po' sciocchezza e che quest'anno ha fatto forza per l'inizio io ho avuto solo sui due chiacchi con il direttore generale della squadra di rugby che era in processa della serie A diceva io ho preso i giocatori quelli nuovi quelli che avevo già io ho guardato in fase il signor qua zero palle il signor qua bisogna vincere punto no? non bene ah no però chiaro che uno arriva in una piazza con quello ci viene l'obiettivo c'è pressione no si ti fa piacere cioè chiaro che però se arrivi il secondo no? quindi da un certo punto di vista posso dire sempre se da un altro è molto interessante come la vedi? beh sì sicuramente a me piace avere anche pressione giocare per qualcosa di importante per cui se no avrei fatto altre scelte sinceramente e per cui a me a me piace giocarmi qualcosa di importante siamo qua lo sappiamo quello che quelli che sono i nostri obiettivi sappiamo però passo dopo passo ecco partita dopo partita guardando il breve termine sappiamo che che sarà un campionato comunque molto difficile molto equilibrato e noi ci stiamo preparando per per affrontarlo che portiere vedremo tra i pali nel senso al grado dell'esperienza che dicono i numeri Alessandria è stata sicuramente non so uno dei momenti chiavi della tua carriera prima cosa altro? ma facciamo che che tra un po' di tempo ci me la dici tu come come che portiere visto tra i pali ecco non mi piace non mi piace fare dire fare proclame o quello quello che sono ecco tanto le parole contano contano poco poi conta quello che succede in campo ecco Alessandria è stata l'esperienza più bella con precedenza quali anni? sicuramente è stato sì il coronamento anche di un sogno perché comunque era dieci anni che 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 disputavo la serie C vincere e vincere i playoff dove diciamo è steso a livello nazionale è stato ancora più ancora più soddisfacente ancora più bello e poi abbiamo fatto un anno di sì anche personalmente ho dimostrato di poter stare in B tranquillamente per cui peccato forse non esserci arrivato prima però l'importante è il presente ecco dei vecchi compagni avere Crestia davanti che fa ombra un po' tutta la porta tutta la difesa è un bel credo un bel punto di partenza no? gli altri? sì ma è stato un piacere veramente ritrovare ritrovare tutti i compagni con cui abbiamo condiviso bellissimi momenti ad Alessandra sì Crestia giocava ad Alessandra più che altro Braccetto cioè non difensore centrale proprio l'altro giorno gli ho detto che lo trovo benissimo anche in quella posizione ancora meglio che di lato che Braccetto e poi c'è Corazza sì sì poi Simo Ricky Edo Luca tutta tutta gente forte e che 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 ho avuto il piacere di ritrovare ecco comunque tutti tutti i compagni forti faccio un'altra ancora l'anno scorso come è cambiato squadra vi siete incontrati ma anche no perché uno è andato via prima l'altro è andato dopo ecco cosa è successo cioè cosa non ha funzionato all'inizio e dopo forse arrivare in corsa a Monopoli è stato più difficile giocare non so sì diciamo è una situazione sarebbe da parlare un po' però diciamo brevemente io ho aspettato perché avevo dietro un paio di squadre di B che ho mantenuto fino alla fine poi rifiutando anche parecchie squadre di Serie C gli ultimi giorni mi ha chiamato la Trestina sono andato là molto proprio l'ultimo giorno in mercato molto volentieri solo che non c'è stata una situazione un po' in porta poco chiara e mi hanno spiegato che non era quando non ho giocato una scelta tecnica ecco per cui ho chiesto a gennaio ho chiesto ormai si era persa fiducia da entrambe le parti per cui a gennaio ho chiesto di andare via poi ecco poi dopo anche un infortunio mi ha tenuto un po' fuori dal campo e dopo ho giocato un po' sì un po' no ecco però è stata una stagione un po' forse quella un po' più travagliata della mia carriera però ecco l'importante è che sono qua adesso ci ho giocato il primo anno a Teramo poi per quattro anni ho giocato sempre a quattro mi trovo mi trovo bene il mister mi ha spiegato un po' quella che è la sua idea la sua idea di calcio posizioni braccetto di destra di sinistra essendo un destro sarebbe più cioè più comoda destra ma ho giocato molto spesso anche a sinistra quindi non è un problema ecco contro il forrete abbiamo visto in quella posizione braccetto di destra quindi quella di teni che è un geniale a livello tattico e poi quello che di altri ti trovi di fronte è una difesa consolidata e forte per la categoria e forse non solo temi questa concorrenza o lo vieni anche tu come uno stimolo per poter andare a arrivare qualche minuto e non solo ma anche qualche posto ma soprattutto nel caso di Sofi a destra quindi sinistra e sinistra certo certo sono qua per giocarmela sicuramente però anche per apprendere avendo compagni comunque più grandi a parte Andrea che ha la mia età però sì essendo stata comunque la miglior difesa anche del campionato l'anno scorso certamente cioè sono li ammiro diciamo così perché miglior difesa miglior attacco credo se non sbaglio quindi si può imparare prima te l'hai scritto come un difensore solido aggressivo di struttura ti ci rivedi o c'è anche altro no mi ci rivedo mi ci rispecchio abbastanza ecco il Cesena è una squadra che ha segnato diversi gol su quale in attiva a parte le amichevoli in cui le abbiamo visti anche nell'ultima nella tua carriera sei un difensore che ha segnato pochi gol pochi come? pochi ecco quindi è un aspetto che vorresti magari migliare perché gli schemi su calcio che ha fatto il Cesena sono molto efficaci certo sì sì adesso devo ancora li sto vedendo per la prima volta comunque in questi giorni gli schemi su pali in attiva però certo è un aspetto che devo per forza migliorare e voglio migliorare quindi ci devo ci devo lavorare ci sono poche poche scuse avete vinto tutti e due la Cian tutti e tre perché anche anche Fabio ecco il vincerla nel tuo caso Matteo era più esperto eccetera e aspettava da tanti anni nel tuo caso in quel gruppo lì che cosa ha significato cosa ti ha dato quell'esperienza tu sei arrivato in corsa no? sono arrivato a genna nel mercato invernale è stata un'emozione incredibile e comunque perché passando comunque da una realtà da Teramo che comunque con tutto il rispetto è molto differente da quella da quella di Modena però è stata sicuramente un'esperienza veramente il primo step della tua carriera importante certo sì 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 però non saprei cosa dirti di più è stata veramente un'emozione incredibile arrivare lì e vincere entravi nella miglior difesa perché era il tempo in Modena della difesa migliore è di chiusa molto bene la volata con la legge insomma sono cose che viene o male e speri di rinivere anche qua penso certo me lo auguro con tutto me stesso arrivavo veramente in una difesa già fermata erano sei mesi che erano insieme e stavano facendo molto bene poi a causa di qualche infortunio comunque per riposi io mi sono ritagliato comunque il mio spazio non mi sento protagonista della vittoria essendo arrivato in corso avendo giocato comunque 10-11 partite se non sbaglio però è stata comunque un'emozione veramente incredibile dico quello che dicevo così ti propongo la stessa domanda di prima in aggiunta e arrivati qui a tal'inizio in una squadra che è comunque un obiettivo importante arrivare fino in fondo con un ottimo giustato è un tac che nella tua carriera nel tuo percorso questo passaggio qui può essere usato me lo auguro tutti noi secondo me speriamo in questa cosa quindi non saprei è bello anche avere pressione bisogna giocare comunque con troppo rilassato non è non aiuta secondo me tre anni di contratto sono anche un bel attestato di stima no? certo infatti sono molto contento ringrazio il direttore e il mio procuratore per essere arrivati a questa a questa conclusione e certo secondo me è una dichiarazione di stima e spero sia così l'ultima per me è la settimana di sessuolo giusto? la tua esperienza lì come è stata? perché ultimamente il sessuolo insomma a livello di sessuolo funziona io sono arrivato che diciamo non era ancora così al top se possiamo dire quanto anni hai concentrato? ero in prima media quindi sì sì all'inizio quando c'erano le selezioni per la mia per la mia età diciamo sono andato sono andato lì ma se non sbaglio erano erano in C credo poi c'è stata tutta la serie di vittoria fino ad arrivare alla serie A e ho fatto nove anni a Sassuolo però diciamo che quello che c'è adesso io non l'ho vissuto perché credo l'abbiano fatto il centro sportivo e tutto il resto l'hanno fatto l'anno dopo che io ero già a Teramo però visto le strutture sono veramente incredibili una curiosità di quei ragazzi con cui sei cresciuto a Sassuolo c'è qualcuno che attualmente vuole nel Sassuolo oppure comunque nel giro serie A cioè quello più conosciuto diciamo è Raspadori che essendo un anno più piccolo però si allenava con noi e giocava con noi quindi lui è quello che diciamo per ora ha ottenuto più successi dalla carriera calcistica però ci sono anche molti altri giocatori che tra C e B non vorrei scordarmene qualcuno quindi